Io in quell'anno, il 25 luglio, a quella data, mi trovavo impiegato come apprendista nella Scarpa Magnano. In questa fabbrica, in quel periodo che è stato dal 25 luglio all'8 settembre, ho avuto modo di farmi effettivamente una scuola di vita, in quanto in quella fabbrica lavoravano molti lavoratori, molti antifascisti che in seguito saranno persone molto importanti nella resistenza, comanderanno gli distaccamenti, molti di loro purtroppo saranno uccisi dai fascisti, saranno fucilati e in quel periodo lì, appunto, queste persone hanno istruito noi ragazzi di 15-16 anni e è stata una scuola di vita, voglio dire. Qualche persona che mi trasmetteva queste notizie ha ritenuto che in quel momento lì io potevo essere maturo per partecipare attivamente alla resistenza. Questo amico mi ha dato un appuntamento con una persona che era componente della resistenza. Questo lo ricordo perfettamente, mi è stato dato per un giorno di giugno, ripeto, alle ore 9 sul ponte di via San Lorenzo, in via La Piana. Per farci riconoscere, in quanto allora c'era la cospirazione, non si poteva dare un appuntamento e parlare con delle persone e far intervenire anche una terza persona da presentarmi, perché la catena doveva interrompersi al primo passaggio. Per riconoscersi io dovevo avere in mano e appoggiato alla ringhiera del ponte una gazzetta di Savona, che allora era un giornale fascista e sfogliandola dovevo stare lì alle 9 in punto e sfogliare questo per farmi riconoscere. L'altra persona che dovevo incontrare doveva venire avvicinarsi a me con il giornale Il Secolo di Genova e avvicinarsi senza parlare, e quindi in un punto del ponte. Siamo avvicinati, ci siamo presentati senza nome, senza niente. Lui mi ha detto soltanto che si chiamava Palmiro, un nome di battaglia. Ci siamo incontrati, ci siamo messi a passeggiare per il Vila Piana e lui mi ha illustrato gli scopi e i fini per i quali noi giovani dovevamo entrare in attività attiva nella resistenza. Mi ha detto che dovevamo fare volantinaggio, che dovevamo fare propaganda con questo e quest'altro e che, diciamo, era importante portare la presenza della resistenza in tutti i luoghi, in tutti i quartieri, in tutte le zone. Poi ha voluto sapere dove abitavo. Io in quel frattempo sono nato in Vila Piana, ma in quel frattempo ero sfolato a Leggino, nell'entroterra di Leggino, in una casa di uno zio, di un parente, con tutta la famiglia. Quindi, sconosciuto questo, è stato molto entusiasta della mia residenza, in quanto sapeva che nella zona non c'era stato ancora nessun contatto con la resistenza e, proseguendo con il discorso, mi dice te dovresti fare contatto con me e, però, lassù, prenderti e formare una squadra e almeno 4-5 persone, ragazzi giovani, che abbiano intenzione di partecipare alla resistenza, per iniziare un'attività anche nel paese di Leggino, questo qui, che non era ancora cominciata, per motivi che non si possono sapere. Quindi, a questo punto qui, mi dice, vabbè, ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento per qualche giorno dopo. Dice, devi fare questo lavoro qui e basta, per il momento. Infatti, sono ritornato su a Leggino, sapevo di altri 4-5 ragazzi amici, qualcuno dalla mia età, qualcuno più anziano, e ho contattato quattro compagni, quattro sì, e io formavamo una squadra di 5. Dopo qualche giorno sono ritornato, contenti anche loro di partecipare alla resistenza, tramite qualche volantino che mi aveva dato Palmiro, io ho detto, ho spiegato quello che mi aveva spiegato a me, anche loro si sono resi disponibili. Sono andato all'appuntamento, il secondo appuntamento è stato nella zona, guardate se siete giovani, i giovani forse non lo sapranno, nella zona della Valletta, nella zona dove recentemente c'era il Parco Doria, lì al fondo di via Stalingrado, dove adesso c'è stata fatta quella strada parallela a via Stalingrado, c'era un campo da gioco, da football, ma era un campetto piccolo, quindi lì c'era una zona che c'era anche dell'abitazione vecchia, e ci siamo dati l'appuntamento lì, incontrati, mi porta in uno scabuzzino, un magazzino adiacente, e mi traffica sotto delle piastrelle che erano messe lì ai provvisori, tira fuori un maloppo di volantini così, e mi dice questo qui è il vostro primo lavoro, le hai fatte le prime, i tuoi compagni li hai trovati? Sì, ho trovato cinque persone, va bene, questo è il primo lavoro, il secondo lavoro che devi fare è scordati i nomi e i cognomi di tutti, datevi un nome di battaglia in modo che se andate in giro quando vi chiamate di sera, di notte, chiamate con quel nome lì, non con il vostro. Forse era eccessivo il problema perché noi eravamo ragazzi che ci conoscevamo tutti, sapevamo anche dove abitavamo, sapevamo uno del suo, noi i nomi di battaglia ci saremmo dati, mi ha dato questo maloppo di manifestini, e in un angolo c'era un barattolo di vernice, sembrava vernice nera, mi dice anche questa ti servirà per fare le scritte murali, il barattolo così, alto così, maloppo così, maloppo me lo sono nascosto sotto la giacca, ma il barattolo lì doveva andare a Leggino e passare sopra a una strada che ancora adesso va sulla rocca di Leggino, dove c'è l'istituto tecnico industriale, ho fatto quella strada lì, sono andato avanti, passavano, qualche tedesco l'ho visto, ma non mi dicevano niente, è andata bene, e finalmente ho sorpassato la chiesa dei Leoni, dove c'è lì, sulla, e mi sono inoltrato in una cosiddetta croza che andando avanti andava verso Leggino, non era la strada che c'è adesso, era soltanto una croza delimitata da due muri, e a un certo punto dalla quale c'era un portone, e io finalmente quando ho visto quel portone lì sapevo che potevo inoltrarmi e entrare in aperta campagna e il pericolo di essere sorpreso con qualcosa a mano era finito. Infatti lì dopo mezz'oretta di strada, attraversando orti, cascine, amiche, con cani che abbagliavano magari, però li conoscevo tutti perché era la strada che usavo per venire al lavoro alla Scarpa Magnano, perché in quel periodo lì lavoravo ancora alla Scarpa Magnano. Dopodiché raggiunsi alla mia abitazione. Lì domani radunai i miei compagni e decidemmo che la sera, o lì domani non ricordo, di andare in paese, naturalmente di notte dopo il coprifuoco, a mettere questi volantini in tutti i portoni del paese. In tutti i portoni, avevamo un maloppo così anche due o tre, abbiamo messo questi volantini e scritte murali non l'abbiamo potuto fare perché il barattolo era catrame. In due giorni è venuto duro come la pietra, quindi l'ho messo lì in un angolo, l'abbiamo chiusato, l'abbiamo poi usato della vernice. In tutti i portoni, dicevo, abbiamo messo questi volantini che erano di notizie del movimento partigiano e di esortazione alla lotta dei cittadini e tutte cose che magari in questo paese qui erano sconosciute. non erano ancora, infatti per farla in breve abbiamo fatto tutto il giro, eravamo noi quattro, cinque, che eravamo e siamo rientrati tranquilli perché allora non c'erano postazioni fasciste, c'erano soltanto dei militari nelle caserme dove attualmente c'è l'università, ma erano fuori dalla nostra zona, cioè erano dentro, erano sopra una strada che noi non abbiamo fatto per prudenza. Dopodiché lì domani siamo andati qualcuno che poteva andare, è andato in paese e c'è stato tutto il sububbio nel paese. Questo ha voluto dire per i leginesi una cosa soltanto che anche nel paese di Leggino, anche se allora era un quartiere piccolino, non come adesso, anche nel quartiere di Leggino era entrata la resistenza. Grazie. 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 Grazie.